Un caso di tubercolosi polmonare in una scuola elementare della provincia di Piacenza, nelle zone della Valtrebi e Valluretta, l'ASL conferma ma precisa che non c'è alcun rischio di contagio. Colpito dalla malattia un bambino di soli 6 anni, sottoposto alla terapia adeguata. La pediatria di comunità comunica di stare comunque eseguendo a scopo precauzionale indagini cliniche di approfondimento sugli alunni e sugli insegnanti della classe che perquenta il bambino colpito dalla TBC. La tubercolosi, precisa l'azienda sanitaria, è una malattia infettiva che può interessare vari organi e a volte la localizzazione polmonare può determinare la contagiosità. La fonte di contagio in genere non sono i bambini, poco per niente contagiosi, ma gli adulti e gli adolescenti. La malattia è causata da un batterio che si trasmette per via aerea. Non necessariamente tutti i soggetti contagiati dal batterio della TBC si ammalano. Si calcola che solo il 10-15% delle persone infettate dal batterio potrà sviluppare la malattia nel corso della sua vita. La malattia è curabile con antibiotici specifici. L'ASL di Piacenza comunica infine che a tutt'oggi non c'è un'emergenza tubercolosi. L'ASL di Piacenza comunica infine che a tutt'oggi non c'è un'emergenza tubercolosi. L'ASL di Piacenza comunica infine che a tutt'oggi non c'è un'emergenza tubercolosi.